La pace dei santi sia con voi. Sabato 13 giugno 2015, dopo la solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù, la Chiesa celebra la memoria del Cuore Immacolato di Maria. Mentre porgiamo i nostri auguri ed affidiamo il Cuore Immacolato di Maria, quanti il 13 giugno festeggiano il compleanno, l'anniversario del battesimo, del matrimonio, dell'ordinazione sacra, della professione religiosa o qualunque altra felice ricorrenza, dal Santuario della Madonna di Campoe a Caglio andiamo a conoscere cosa è il Cuore Immacolato di Maria. Il sabato successivo, alla seconda domenica dopo Pentecoste, la Sacra Liturgia, con un formulario speciale, celebra la memoria del Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria. Nei propri di chiese particolari e di istituti religiosi si possono trovare diversi formulari in onore del Cuore Immacolato di Maria, che ne mettono in luce la multiforme ricchezza e che la Vergine stessa ci ha fatto conoscere nella sua apparizione a Fatima del 1917. L'espressione Cuore Immacolato della Vergine va interpretata in senso biblico. Designa la persona stessa della Madonna, il suo essere intimo e irrepetibile, il centro e la sorgente della vita interiore, del pensare, dell'amare, della volontà e dell'affettività. L'animo indiviso con il quale ella amò Dio e i fratelli e si dedicò completamente all'opera di salvezza del Figlio di Dio. Come nella celebrazione eucaristica, in onore del Sacratissimo Cuore di Gesù, si celebra l'amore misericordioso di Dio per la Chiesa, così nella Sacra Liturgia, in onore del Cuore Immacolato di Maria, si contempla la sollecitudine materna della Vergine e viene dato il modello del Cuore Nuovo, dono e segno della Nuova Alleanza. Il Cuore della Vergine, che piena di fede e di amore accolse il Verbo di Dio, è chiamato anzitutto Dimora del Verbo, nonché Tempio dello Spirito Santo. proprio per la continua presenza in esso dello Spirito Paraclito. Il Cuore Immacolato è presentato come immune da macchia di peccato, sapiente perché Maria, interpretando gli eventi alla luce delle profezie, serbava nel suo cuore la memoria delle parole e dei fatti riguardanti il mistero della salvezza. Docile perché Maria ha aderito generosamente ai comandi del Signore. Nuovo, secondo la profezia di Sant'Ezechiele, rivestito della novità della grazia ottenuta da Cristo. Cuore mite, in conformità al Sacratissimo Cuore di Gesù Cristo, che dice, imparate da me che sono mite ed umile di cuore. Cuore semplice, cioè alieno da ogni doppiezza e tutto ricolmo dello Spirito Santo di verità. Puro, ossia, secondo la beatitudine proclamata dal Signore Gesù, capace di vedere Dio. Beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Il Cuore Immacolato della Beata Vergine è forte nell'abbracciare la volontà di Dio, quando, secondo la profezia del Santo Vecchio Simeone, o incombeva la persecuzione contro il Figlio, o non era imminente la morte di croce. Infine, il Cuore Immacolato della Beata Vergine è detto Vigilante, perché, mentre Cristo dormiva nel Santo Sepolcro, il Cuore di Maria, come il Cuore della Sposa del Cantico dei Cantici, vegliava in attesa della manifestazione della potenza di Dio, che non avrebbe certo lasciato il suo unigenito Figlio nella morsa della morte. Al Cuore Immacolato di Maria, come ci ha chiesto lei stesso a Fatima, affidiamo la Chiesa, il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti, i Diacoli e tutte le nazioni della Terra, perché imparino ad amare Dio e i fratelli con tutto il cuore.